Fratelli d'Italia, d'Italia se testa, e le modi scibio se cinta la testa. Presidente, siamo alla vigilia di una data importantissima. Il capo dello Stato scende in Calabria sostanzialmente per inaugurare formalmente quella che lei ha già chiamato la casa di tutti i calabresi. In questa occasione importante, così sancita anche sul piano istituzionale, di grande dignità, perché arriverà il primo inquilino del nostro Paese a spingere a inaugurare la casa dei calabresi. Cosa si sente di dire ai calabresi e al Presidente Mattanello? Beh, innanzitutto è per noi un motivo di soddisfazione e di orgoglio avere la presenza del capo dello Stato. Mi permette di dire che è anche e soprattutto un motivo di soddisfazione personale, perché ho invitato il Presidente della Repubblica in occasione della visita al Quirinale quando abbiamo portato i presepi e Mattarella ha accolto immediatamente il mio invito. Mattarella ha un rapporto di antica amicizia, avendo fatto per quattro legislature il parlamentare alla Camera dei Deputati e avendolo conosciuto direttamente nelle diverse funzioni istituzionali che ha svolto da Ministro, da Vice Presidente del Consiglio dei Ministri. È un atto che ha un grande significato, perché il Presidente della Repubblica viene, come tu dicevi, a inaugurare la nuova cittadella regionale, la casa dei calabresi. Non viene per partecipare a un convegno, viene appunto per inaugurare una nuova stagione. Noi finalmente abbiamo un palazzo degli uffici della regione, abbiamo chiuso 29 sedi nelle quali era frammentata l'attività degli assessorati ed amministrativa della regione, abbiamo con l'apertura e l'inaugurazione della cittadella regionale messo un punto fermo. I calabresi hanno un punto di riferimento, hanno la loro casa, che è anche e soprattutto motivo di identità. È una sede moderna, confortevole, per la quale sono stati spesi 160 milioni di Euro, è una sede che permette alla struttura della regione di semplificare la sua organizzazione e di corrispondere meglio ai bisogni di crescita della nostra regione. Naturalmente credo che proprio per questo il simbolo di una stagione nuova che è rappresentato dalla cittadella regionale non poteva avere migliore inaugurazione con la presenza della più alta carico do Stato di Sergio Martarella, che io ringrazio per aver accolto il nostro invito. La seconda motivazione che rende ancora più importante questa visita è che Mattarella è un uomo del mezzogiorno, è un figlio del mezzogiorno, è un grande meridionalista, è una personalità che conosce bene la nostra regione, che è il cuore della questione meridionale, perché la Calabria, non bisogna dimenticarlo, è la regione più sofferente nella difficoltà del mezzogiorno e quindi la sua visita proprio in occasione della inaugurazione della cittadella regionale è anche un grande messaggio, un messaggio di fiducia perché il mezzogiorno si possa rimettere in piedi, perché la questione meridionale possa ritrovare l'attenzione necessaria nelle politiche nazionali e soprattutto nelle politiche europee, perché i meridionali, in questo caso i calabresi sappiano che c'è il sostegno dello Stato, ma devono rimboccarsi le maniche. Noi dobbiamo, partendo da qui, lavorare sodo per costruire il nostro futuro e naturalmente saperci conquistare la credibilità, la fiducia, il sostegno delle istituzioni nazionali ed europee. In questo senso la presenza del Presidente della Repubblica è un grande atto di incoraggiamento. In conclusione, Presidente, potremmo dire proprio per le cose che ha appena detto, che questo Presidente, capo dello Stato meridionista, possa in qualche modo battezzare una serie di iniziative che sono già partite. Penso all'autorità portuale, che in questo momento è una discussione, ma tutte le altre punti che riguardano la spinta di questa regione verso la meta dello sviluppo e dell'aggancio all'altra parte del Paese. La presenza di Mattarella nella circostanza dell'inaugurazione della nuova casa dei calabresi coincide con l'apertura di una fase nuova, quella della operatività degli strumenti della programmazione comunitaria. Noi in questo anno che abbiamo alle spalle abbiamo lavorato per recuperare ritardi enormi, per recuperare risorse che rischiavano di andare perdute, abbiamo lavorato per definire i programmi che abbiamo presentato all'Unione Europea per l'utilizzazione delle risorse 2014-2020 e proprio nei prossimi giorni, il 5 febbraio e poi l'11 febbraio, saranno resi operativi il POR e il Piano di Sviluppo Rurale. Si aprirà una stagione di grande impegno per l'utilizzazione di queste risorse, per creare lavoro, per realizzare progetti di crescita, per sostenere le imprese e per riorganizzare e riqualificare i servizi. Questa casualità della inaugurazione della cittadella con la presenza del Capo dello Stato e dell'operatività degli strumenti della programmazione comunitaria è una casualità che ha un significato importante, credo sia feconda di una nuova stagione che la nostra regione deve vivere e per la quale bisogna impegnarsi. Buon lavoro Presidente. Grazie a voi. L'Italia sedesta del vero municipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò.